Il sapore è nel passato che ci rimane vivo dentro, dai ricordi che ci tengono legati. Ma legati a che cosa? A tante stupide illusioni. A distanza di 4, 5, 10 anni, chissà che sapore acquisterà. Che gusto queste lacrime. Un nome dolcissimo. Un nome dolcissimo. Un nome dolcissimo. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!